ecco totani seconda volta che mangiamo totani noi questa pentola bella totani venuti molto molto bene io ho cucinato in modo semplice perché non voglio perdere tempo per fare sotto anni ripieni si può cucinare tanti modi ecco così salsa e facciamo mettiamo sul crostini crostini poi fatto disastro bene e tanti tanti verdure tanti verdure vedete com'è bene come si presenta bene totani straordinari totani straordinari no davvero davvero morbidissimi già seconda volta che mangiamo si devono ripetere ancora questi totani speciali speciali 22 totani pagato 8 euro 750 e bella salsa e due volte abbiamo mangiato verdure ora vi faccio vedere questa teglia già vuota abbiamo mangiato mi vergogno di dire ora devo lavare e questa seconda questa verdura straordinaria amore prendi un po di verdura quello che ti piace a me piace più di tutto a me piace cavolo io voglio assaggiare cavolo è proprio speciale cavolo speciale carote 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 non voglio assaggiare te ti prendi questo io voglio prendere uno cavolfiore 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 per bene ma soprattutto questo cavolo cappuccio questo qua c'è diverso cavolfiore ora mangiamo tiepido perché a pranzo abbiamo mangiato oggi caldo caldo ora a casa molto caldo abbiamo scaldamento acceso io non volevo riscaldare altra volta io voglio assaggiare una una questa qua melanzane soprattutto molto buone melanzane amici guarda come si presenta bene piatto eh si melanzane proprio buone melanzane ora assaggio zucca zucca dolce zucca buona ma soprattutto questo cavolo io voglio assaggiare perché ieri quando caldissimo quando ho tirato fuori mi piaceva tantissimo a non mamma mia è buono è buono cavolo devo ripetere cavolfiore devo ripetere non ripetere in senso devo rifare e poi melanzane straordinarie melanzane straordinarie al forno questo cavolo cappuccio straordinario proprio molto buono e porro già fatto finocchi è già fatto mmm mamma mia che bontà che bontà che bontà mmm caldo molto caldo questo qua di verdura tiepida da rifare una volta bella tanta tanta verdura ora primavera potete anche fare per esempio peperone tutta verdura che che si può bisogna mettere patata io ho messo ora oggi a pranzo abbiamo mangiato una patata io a patata non volevo mettere perché io volevo provare con patate con patate no con scusate volevo provare con tutti i verdure non volevo patate perché tutti sanno come patate al forno io volevo verdure mangiare soprattutto no patate amici con questo vi saluto e vi lascio e così saluto e buona serata a tutti buonissimo provate provare per credere due teglie belli grossi di verdura diversa 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 arrivederci grazie mettetemi un bel like iscriveteci non dimenticate perché mi guardano tanti tanti nuovi che non si non si iscritti ancora al mio canale grazie buona serata a tutti